Carissimi amici Dinosauromania, oggi vi presento questo fantastico Ankylosaurus targato Jurassic World Dominion. Sono nuovamente in Hypercop e questa volta tra le mani mi è capitato questo fantastico dinosauro della Mattel. Ve lo faccio vedere un attimino nei suoi dettagli, assomiglia ovviamente all'Ankylosaurus Bumpy. Questa versione ha questo tipo di colorazione ed è veramente fighissimo. Vediamo se riesco a mettervi a fuoco un po' di dettagli. Come detto in precedenza questi nuovi dinosauri di Jurassic World hanno la particolarità di avere la scheda che poi sblocca il dinosauro sull'app tramite questo slot. Ve lo faccio vedere immediatamente. Vediamo se la camera la mette a fuoco. Ecco qui lo slot che andrete ad utilizzare per sbloccare il dinosauro sull'atto. Ovviamente anche nella descrizione della scatola vi dà questo tipo di informazione ed infine vi mostro anche il retro della scatola. Stiamo parlando quindi di un prodotto della Mattel Jurassic World Dominion, l'ultimo film della saga che tutti ormai conoscete e avrete visto al cinema. Un giocattolo consigliato per un'età maggiore dei quattro anni e soprattutto qui come c'è l'indicazione sulla scatola o meglio sul packaging è un dinosauro che effettua oltre dei movimenti anche dei suoni. Vediamo se riusciamo a capire quali sono i suoni che effettua questo fantastico anchilosauro. Io intanto ve lo faccio vedere in tutta la sua bellezza. Eccolo qui. Movimento della testa in questo modo. Guardate le zampe. Vi faccio vedere anche la coda sul retro. Cerchiamo di capire qual è il suono. Vediamo ragazzi se lo sentite. Ovviamente il suono avviene muovendo la coda sul retro. Vediamo un attimino di nuovo il packaging, che tipo di informazioni ci dà. Ecco qui ragazzi. Quindi molto probabilmente effettuando una pressione sul dorso abbiamo successivamente il movimento della coda. Proviamoci un attimo. Vedete ragazzi? Ecco qui. questo è il simpaticissimo suono ragazzi che effettua questo fantastico anchilosauro. Vi faccio rivedere il packaging che ovviamente è fantastico ed è targato Jurassic World Dominion. Anche questo è un pezzo da collezionare e quindi non può mancare nella nostra collezione. Quindi ricapitolando ragazzi Anchilosaurus Jurassic World Dominion qui in questa fantastica colorazione. Ve lo faccio rivedere un attimino. E allora cari amici se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale di Dinosauromania e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!